Giovedì, 12 dicembre 2019 Beata Vergine Maria di Guadalupe Dal libro del profeta Isaia Io sono il Signore, tuo Dio, che ti tengo per la destra e ti dico, non temere, io ti vengo in aiuto. Non temere, fermiciatolo di Giacobbe, larva di Israele, io vengo in tuo aiuto, oracolo del Signore, tuo Redentore è il Santo di Israele. Ecco, ti rendo come una trebbia cumminata, nuova, munita di molte punte, tu trebbierai i monti e li stritolerai, ridurrai i colli in pula. Li vaglierai e il vento li porterà via, il turbine li disperderà. Tu, invece, gioirai nel Signore, ti vanterai del Santo di Israele. I miseri e i poveri cercano acqua, ma non c'è. La loro lingua è riarza per la sete. Io, il Signore, risponderò loro. Io, Dio di Israele, non li abbandonerò. Farò scaturire fiumi su brulle colline, fontane in mezzo alle valli. Cambierò il deserto in un lago d'acqua. La terra arida in zona di sorgenti. Nel deserto pianterò cedri, acace, mirti e ulivi. Nella steppa porrò cipressi, olmi e abiti. Perché vedano e sappiano, considerino e comprendano un tempo, che questo ha fatto la mano del Signore. Lo ha creato il Santo di Israele. Dal Salmo 144 Il Signore è misericordioso e grande nell'amore. O Dio, mio Re, voglio esaltarti e benedire il Tuo nome in eterno e per sempre. Buono è il Signore verso tutti. La Sua tenerezza si espande su tutte le creature. Il Signore è misericordioso e grande nell'amore. Ti lodino, Signore, tutte le Tue opere. E ti benedicano i Tuoi fedeli. Dicano la gloria del Tuo regno. E parlino della Tuo potenza. Il Signore è misericordioso e grande nell'amore. Facciamo conoscere agli uomini le Tue imprese. E la splendida gloria del Tuo regno. Il Tuo regno è un regno eterno. Il Tuo dominio si estende per tutte le generazioni. Il Signore è misericordioso e grande nell'amore. Dal Vangelo secondo Matteo In quel tempo, Gesù disse alle folle In verità io vi dico Farinati da donna Non è sorto alcuno più grande di Giovanni il Battista Ma il più piccolo nel Regno dei Cieli È più grande di lui Dai giorni di Giovanni il Battista Fino ad ora Il Regno dei Cieli subisce violenza E i violenti se ne impadroniscono Tutti i profeti e la legge infatti Hanno profetato fino a Giovanni E se volete comprendere È lui Quell'Elia che deve venire Chi ha orecchi Ascolti Il Regno dei Cieli